E adesso che succede? A te pare normale far finta che non esista. C'è qualcuno che dice prima o poi ce la faremo e sinceramente non ci interessa. In verità tutto questo non è altro che un amore protratto. Perché in fondo la via la amiamo, anche se la ignoriamo. Non ho nessun traguardo da raggiungere, carpe diem. Vivo ogni giorno che passa come se fosse l'ultimo. Dici fiero con i tuoi amici. Hai ragione. Ogni attimo bisogna curarlo come se fosse l'ultimo. Ma esser vivi e pensare che non siamo parte di un percorso che scegliamo attimo dopo attimo significa non avere il coraggio di scegliere. Mettiamo chi ha appena finito l'università e dici di non avere nessun obiettivo. Non è vero. Tu l'obiettivo ce l'hai dentro. È soltanto che non sai come spiegarlo a te stesso o forse non hai il coraggio di dirlo a te stesso e di conseguenza farlo sapere alle persone che ti stanno intorno. Voglio diventare scrittore, ingegnere, fare giornalismo, aprire un bar in Argentina, morire dopo aver danzato tutta la notte, trovare qualcuno che mi ami e fare dei figli, trovare qualcuno che mi ami e non fare dei figli, cambiare un partner ogni tre mesi e non amare nessuno, aiutare gli altri, aiutare me stesso, vincere le olimpiadi, tornare a fare quello che facevo da bambino e che a causa di quella maledetta e splendida voglia di cambiamento avevo lasciato perdere. Una via c'è sempre. Adesso sei tu che devi imparare ad ammetterlo, ma ricorda che in tutto questo grande gioco quello che conta sei solo tu. Quello che conta sei solo tu.